Ciao a tutti e benvenuti su Strategetti. Oggi siamo in compagnia di Piero Savastano e forse anche del pollo Vaslavik. Ciao Piero. Ciao Riccardo, sono Piero, questo è il pollo. Sono contento di essere ospite del tuo podcast. Spero che sia arrivato ai microfoni l'intervento del pollo. A parte tutto, ogni tanto alleggeriremo perché noi abbiamo argomenti che comunque sono complessi e vanno affrontati passo dopo passo anche con leggerezza e passione. Quindi il pollo ci sta. Io purtroppo non ho nulla, un alter ego in questo momento, però ci possiamo lavorare. Intanto Piero, bando alle ciance, tutti occupi di machine learning, deep learning, reti neurali, intelligenza artificiale, cioè tutto tondo il data scientist. Cosa fai in particolare, se lo puoi raccontare, se puoi un attimo schematizzare principalmente di cosa ti occupi? Sono partito dalla ricerca in intelligenza artificiale con le reti neurali che al momento sono brandizzate sotto il nome di deep learning, diciamo è tutta una stessa famiglia che si vede nel tempo e applico questi algoritmi di intelligenza artificiale alle imprese, alle applicazioni del mondo quotidiano, reale. Quindi sono un po' a cavallo tra questo mondo scientifico e poi l'utilizzo che se ne fa per l'impresa. Una domanda, io perché ho proprio una community relativa a questo podcast omonima su Telegram e mi hanno subito fatto la domanda appena ho detto intervisto un data scientist, possono farmi direttamente le domande e hanno detto ma quanta congruenza c'è tra gli annunci di lavoro sul data scientist e poi la realtà? Se ci puoi un po' raccontare se è possibile tracciare almeno cosa fai quotidianamente o cosa vedi fare? Assolutamente. Allora il sospetto della tua community è ben fondato perché è un po' quello che succede con gli sviluppatori. No, trovi di questi annunci dove dicono guarda ci serve uno sviluppatore che sappia JavaScript, Java, PHP, C++, sa utilizzare Docker, Kafka, Kubernetes e ci fa pure la parte di sicurezza informatica. Ok, queste persone chiaramente non esistono e se trovi uno che sa fare tutte queste cose le sa fare in modo superficiale. Ci sarà un motivo comunque, se lo sa fare ci sarà un motivo perché dicono sempre che noi sviluppatori non abbiamo vita sociale. Nel caso remoto in cui riesci a fare tutte queste cose hai sacrificato le relazioni, non è più una vita. Sì, data scientist è un po' un termine ombrello come anche sviluppatore, nel senso data scientist può essere quello che fa la business intelligence e quindi ti fa la dashboard di visualizzazione dati pensata per il business. Può essere quello che ha competenze verticali e ha una insomma competenza data analyst e si spinge fino a fare qualche modulino statistico. Data scientist può essere quello che fa modelli in Python o R e non li mette in produzione perché si usa solo della parte scientifica. Data scientist può essere quello che prende questi modelli e li mette dietro in server web a rispondere alla comunicazione macchina a macchina. Quindi sono tre o quattro persone diverse. Così come chiamano data scientist anche quello che si occupa di gestire grandi quantità di dati, quindi andando sul mondo Big Data, Spark, Doop, eccetera. Anche quello lì spesso viene chiamato data scientist. C'è parecchia confusione. Quindi ragazzi prendete la specializzazione che avete, giocatevi tutto su quello in cui siete più bravi e quello in cui esiste più, studiate e piano piano arrivano i termini esatti per chiamare queste professionalità. Prima l'acquisito di professionalità e poi arriva il termine. Se mi consenti di aggiungere una cosa su questo, studiare le reti norali, quando mi sono fatto l'iosso su tutti questi temi, data science non era un termine che tu trovai da nessuna parte. Era la micchia di una micchia di una micchia. Un certo punto è venuto fuori e io mi sono cominciato a spacciare per data scientist perché quelle cose già le sapevo ma le avevo imparate in altri settori. Quindi c'è una relazione non lineare tra i nomi che si danno alle professioni e poi quello che uno sa fare. E quindi appunto sugli annunci sì, in effetti qua stanno lasciando sempre più ruoli data engineering, data visualization oppure data analyst e quant'altro perché ovviamente le cose da sapere sono davvero tante. Tu dove ti concentri? Soprattutto nella parte di modellistica e messa in produzione, quindi server web però non su grandi quantità di dati. Tipicamente sono modellini che addestro su quantità di dati che sono nell'ordine dei gigabyte, centinaia di megabyte o gigabyte, li metto in produzione, costruisco il server web. A volte mi viene chiesto di fare delle dashboard, diciamo quello lì è il mio ambiente. E qui già ho due domande. Una è se ho una startup o ho pochi dati storici, oppure adesso ad esempio con la pandemia e col covid che non hai dati storici, ti senti di fare un lavoro a monte prima? Come ti comporti se ti arriva una startup e dice non abbiamo dati storici ma dobbiamo cominciare a prevedere e a modellare qualcosa? Sì, si dovrebbe partire subito con una strategia di raccolta dati, che sia rispettosa della legge ma che sia più ampia e profonda possibile. Registrare dati non fa mai male, anche se poi il 90% li butti, perché di base in anticipo raramente sai che cosa poi ti servirà dei dati. Quindi tanto più raccogli, ripeto, in ampiezza e in profondità, meglio è. Se poi vuoi fare una modellistica con pochissimi dati ti puoi inventare qualcosa, magari scrivi degli algoritmi a mano, oppure fai una proiezione lineare, fai delle cose diciamo più semplici, così intanto puoi costruire degli MVP, dei prototipi e poi mano a mano che arrivano i dati aggiusti il tiro. Sicuramente qualcosa ci si può inventare. E la tua giornata, prima ti avevo interrotto anche la giornata tipica di un data scientist, perché tu parli adesso di modelli, di predizioni ovviamente, però immagino nel tuo canale YouTube che hai cerchi di partire dalle basi per far capire cosa intendi, ma se puoi a grandi linee parlarne così chi si occupa di business capisce anche quale ricadute c'è in questa attività e come si svolge. Sì, ci sono tutta una serie di casi d'uso in cui i dati che sono stati raccolti a livello aziendale, che spesso sono frammentati, stanno in database diversi, ci sono dei stakeholders che non li vogliono rilasciare, comunque c'è tutta una politica anche dietro. I dati che vengono raccolti a livello aziendale, se aggregati e analizzati, sia con le statistiche descrittive, sia facendo grafici, sia facendo predittori, possono essere utilizzati per produrre valore. Questo valore lo si vede tutti i giorni nelle applicazioni che usiamo tramite web, raccomandazioni su Amazon, quello è un'applicazione di machine learning, oppure il traduttore di Google, quello è un'applicazione di machine learning. Il fatto che, ad esempio, carico un'immagine su Facebook e quella lì mi trova la faccia e me la tagga da solo, quella è un'applicazione di deep learning. Come vengono costruite tutte queste applicazioni intelligenti? È possibile costruire queste applicazioni perché esiste a monte un dataset aziendale che è stato raccolto e a partire da questi dati io addestro la macchina a fare un task. Senza sempre entrare nel tecnico, per poter addestrare queste intelligenze artificiali, prendiamo il caso di Facebook che ha le immagini e tagga da solo la faccia. Come faccio a fare questo tipo di lavoro? Per fare questo tipo di lavoro devi partire da un grosso quantitativo di immagini già taggate, perché sono state attaggate a mano dalle persone o dagli operatori, e la macchina impara, con questo procedimento che si chiama addestramento supervisionato, impara a capire sulle immagini dove sta il viso e di chi è, perché nei dati che abbiamo a disposizione le immagini sono già, c'è già il dato di chi è nell'immagine e dove sta il viso, quindi c'è sia l'input che l'output. In tutti questi casi noi possiamo costruire un algoritmo che approssima quel tipo di task. Se poi facciamo anche un altro esempio, il traduttore di Google come è addestrato? È addestrato da grossi corpus di testo, quindi terabyte e terabyte di testi che il crawler di Google trova su internet, e che sanno a monte essere tradotti in varie lingue, ad esempio il sito dell'Unione Europea, ogni documento è tradotto in 4-5 lingue. A partire da questi dataset, da questi corpus di testi tradotti in più lingue, loro riescono ad addestrare un modello statistico a fare la traduzione da una lingua all'altra. Ad esempio anche applicazioni nel mondo chatbot? Sì, anche lì si usa tutto questo mondo dell'analisi del linguaggio naturale, e si possono costruire dei chatbot che riescono ad imparare i turni di conversazione a partire da esempi di conversazioni già avvenute, magari con operatori veri. Quindi si parte da un dataset, poi si dà impasto a un algoritmo che genera questo modello, e quindi si possono fare poi delle predizioni, o diciamo dopo questo addestramento si riesce a far comportare l'algoritmo di predizione esattamente nel modo più vicino possibile alla realtà, perché ovviamente la cosa che secondo me è difficile far passare l'azienda è un po' una sfida, forse probabilmente è la tua quotidiana, quello di far capire che non è una cosa deterministica, come noi sviluppatori veniamo chiamati, dobbiamo fare una cosa da A e mi aspetto B, invece qui è un cambio di paradigma, no? Vai a toccare un nervo scoperto, perché effettivamente la sfida più grande nel vendere queste cose, nel rendere poi appetibili sul mercato, appunto è impossibile dare la garanzia che questo riconoscitore di divisi o questo chatbot sia accurato al 100%, in questo mondo qui non esiste il 100%. Perché non è quello l'obiettivo, non è l'obiettivo di essere sicuri che è quello... Sì esatto, nel senso c'è applicazione e applicazione, se io voglio fare in modo che c'è una transazione bancaria che va da Piero a Riccardo, l'ultima cosa che voglio usare è l'intelligenza artificiale, cioè in quel caso voglio usare un programma scritto a mano, ben testato, magari mi appoggio alla blockchain se voglio fare le cose futuristiche, però vogliamo essere sicuri che il codice che scrivo faccia una cosa esatta. Nel mondo del machine learning è niente esatto, è un'approssimazione statistica, sì. Esatto, e quello che toccavi anche, oltre il lavoro di raccolta dei dati, mi arrivava un'altra domanda nel gruppo in cui dicevano, sì ma ho letto una volta che in un'infografica che l'80% del lavoro è quello di fare pulizia dei dati. È vero, è verissimo, non solo 80%, questo 80%, c'era una famosa battuta che era in data science l'80% del lavoro è ottenere i dati, l'80% del lavoro è pulirli e il 20% è fare il modello. Comunque c'è una grossa fatica a monte, tra l'altro non lo diciamo, noi diciamo data scientist di livello nazionale, diciamo lo dicono anche i vari Google, Amazon eccetera, se ti vai a vedere quello che dicono alle conferenze internazionali di data science, quello che dicono tutti, e Google in primis è che al momento è l'eccellenza dell'intelligenza artificiale, che se ne dica, sono in assoluto i primi al mondo, quello che loro dicono è, dobbiamo migliorare gli strumenti di raccolti perché è lì che si perde più tempo. Un progetto di machine learning, deep learning, AI, quello che sia, è fatto per un buon 80% di preparazione e raccolta dati, assolutamente sì. Senti Piero, una parte importante del tuo lavoro, oltre che la consulenza, è soprattutto la formazione. Ho visto che sei partito con diversi corsi incentrati su machine learning, su Python, volevo chiederti se in breve, prima di parlarci dei corsi, di come li hai strutturati, perché è sempre interessante capirlo, perché è sempre una sfida, dare sempre una formazione più adatta a chi la riceve. La differenza tra machine learning, deep learning, reti neurali, perché tu parli di vari aspetti, però c'è, credo, un po' di confusione per chi non è proprio del settore. Sì, vogliamo costruire una macchina che faccia cose intelligenti? Questa qui è l'intelligenza artificiale, è il settore che si occupa di, è proprio la cosa più generale di tutti. Diciamo, tutti questi nomi di cui sentiamo parlare sono tutti nel calderone dell'intelligenza artificiale. Non è vero che sentire poi parlare a livello di prodotto, di conferenze, di AI, intelligenza artificiale, è troppo generico. Io vi invito a non fidarvi se vi si parla solo di AI e non si entra un po' più nei dettagli. All'interno di questo calderone dell'intelligenza artificiale, che si sviluppa da più di un secolo, all'interno troviamo diversi approcci. Tra questi approcci ce n'è uno che si chiama machine learning, in italiano apprendimento automatico, e questo qui è un settore specifico all'interno dell'intelligenza artificiale in cui si cerca di addestrare le macchine a fare cose intelligenti a partire da dati. Quindi in modo specifico, se io utilizzo i dati per costruire questa macchina intelligente, allora sto parlando di machine learning. Deep learning è un ulteriore sottoinsieme del machine learning, in cui questo apprendimento fatto a partire dai dati, così come le conversazioni dei chatbot e le immagini di Facebook di cui parlavo prima. Questi sono i dati, sono gli esempi che noi forniamo alla macchina. Il deep learning è una forma di machine learning in cui questo meccanismo di apprendimento simula il modo in cui apprendiamo noi, simula il tessuto nervoso in un modo molto semplificato. Quindi abbiamo neuroni e strati di neuroni che si scambiano segnali tra di loro e ci sono delle leggi che ne governano l'apprendimento. È una simulazione del cervello, diciamo. E tu hai la predilezione, ho visto, nei corsi di parlare di machine learning, applicato poi con Python e con tutto l'ecosistema che c'è dietro. Come lo hai pensato? Hai in testa il percorso che deve fare un data scientist? Perché molti lo chiedono e vorrei capire se tu ti sei fatto una chiara idea da questo punto di vista. Sì, qua mi riallaccerei al discorso di prima del fatto che è un po' una professione ombrella, ancora non si è capito di che cosa è fatto. Bisogna farsi un po' le ossa su tutta una serie di cose e poi andarsi a specializzare. Allora, le ossa ce le dobbiamo fare su essenzialmente tre aspetti. Il primo è immancabile, purtroppo necessario, però un po' di matematica serve e da quella non si scappa. Perché se non conosci quella lì poi ti ritrovi a utilizzare gli algoritmi alla cieca e arrivi fino a un certo punto. Puoi ottenere buoni risultati ma più di tanto non vai. E la matematica da vedere è algebra lineare, quindi vettori, matrici, operazioni di questo tipo su spazi a tante dimensioni. La probabilità, probabilità condizionata, distribuzioni, ottimizzazioni e il calcolo, con l'infinitesimale, quindi le derivate, i gradienti, la discesa del gradiente. Capite queste cose qua, diciamo hai la maggior parte delle armi nel tuo arsenale e più a fondo di così secondo me neanche serve. Cioè una volta capite queste cose qui, quindi c'è una parte che è capire gli algoritmi dal punto di vista matematico. Poi c'è una parte di informatica, e questa qui è quella su cui soffrono tanti, magari quelli che hanno un background di fisica, matematica, però non hanno programmato più di tanti, loro soffrono esattamente qui. Cioè saper scrivere, codice pulito, funzionante, saperlo poi a un certo punto testare, saperlo mettere in produzione, conoscere come far comunicare il codice che tu scrivi con il resto del web, saper costruire un server web, saper leggere i database, saper elaborare degli Excel, dei CSV, e saper poi utilizzare le librerie che internamente usano la matematica di cui parlavamo prima. E qui convergono le competenze scientifiche e quelle informatiche. E poi c'è un ulteriore bacino di competenze che sono quelle verticali. Se tu sai fare queste due cose, anche non troppo bene, però hai una buona conoscenza di mercato verticale. Ad esempio se uno è espertissimo di scarpe, e dei dati sulle scarpe, e di come vengono vendute le scarpe, e dove e come, ti puoi mettere a lavorare sui dati delle scarpe, e lavorare sui dati delle scarpe con competenze verticali sul mercato delle scarpe, ti dà un grosso vantaggio rispetto al data scientist generico. Quindi vedo tre cose, aspetto scientifico, aspetto tecnico, e aspetto economico verticale. Queste tre sono le due che io individuo. La verticalità comunque è sempre un must. Quindi tu come le hai organizzate i corsi, e se dovessi consigliare un tuo corso, per iniziare, da dove faresti partire? Probabilmente non dipende anche dal livello, dipende anche da cosa stanno cercando, però se puoi un attimo generalizzare. Sì, allora io mi rivolgo soprattutto a chi sa già programmare, essenzialmente, vivo nel mondo dei tecnici, quindi preparo materiali soprattutto per loro, e ho un canale YouTube che trovate come Piero Savastano, lì c'è un corso gratuito di 25 puntate su Machine Learning in Python, e vado proprio dalle basi, come si preparano i dati, come si addestra il primo modello, il primo predittore, come si misura l'efficacia, l'accuratezza, come costruire un motore di sentiment analysis, come andare i concetti di overfitting e underfitting, come lavorare su un nuovo dataset, come combinare tutte queste cose in un unico script, questo qui è tutto gratuito. Poi ho dei corsi premium che sono in preparazione e in prevendita, e qui li ho divisi in tre parti, ho fatto un corso specifico su capire gli algoritmi, dal punto di vista matematico. Un altro corso è specifico su come mettere i modelli in produzione, e questo interessa soprattutto agli sviluppatori web. E un terzo corso è invece quello di professionalizzante per portare l'accuratezza degli algoritmi al massimo, quindi tecniche per andare oltre il semplice fai partire addestramento, quello che succede dopo quando iteri e iteri e iteri per portare il tuo modello al prossimo livello e renderlo potenzialmente vendibile. Quindi mi sto muovendo su questi tre filoni. È interessante che per non vedere, cioè per evitare l'ostacolo più grande che era quello di programmazione, hai visto che l'interesse è soprattutto verticale per i programmatori o per chi ha già un'infarinatura tecnica. Sì, questo è un po' da una parte, diciamo, è un vantaggio che uso, perché diciamo, quello è il mio mondo e mi rivolgo a queste persone. Essenzialmente conosco troppi più tecnici che qualsiasi altro tipo di persona e tendono a fidarsi di me, anche perché vado spesso in giro per meetup, io stesso organizzo meetup sugli assistenti vocali, cioè giro parecchio. Dovendo fare qualcosa per una platea più business, probabilmente, magari in futuro lo prendo in considerazione perché qualche programma, qualche bozza già ce l'ho, fare un corso magari sull'utilizzo di KNIME, RapidMiner, sono questi software, diciamo, grafici in cui non devi programmare, e poi prendere un dataset e farci un modello statistico sopra senza programmare. Lì, secondo me, la parte forse che è più di sfida per il mondo business è capire bene questa faccenda che diciamo prima del dataset, cioè del fatto che i dati sono necessari e che devi trovarli all'interno. Per dire, esempio tipico, a me capita spessissimo di avere imprenditori che si rivolgono a me e mi dicono, non so, io ho delle immagini, quindi le immagini ce le hanno, io devo capire se in queste immagini, diciamo, che tipo di macchina c'è in queste immagini, se è una macchina normale oppure un camion. E io devo sempre premettere che per addestrarre questa macchina a riconoscere se c'è un camion o un'utilitaria nell'immagine, ho bisogno che le immagini siano divise in due cartelle, da una parte le utilitarie e dall'altra parte i camion. Cioè io devo sapere anche qual è l'output in qualche modo. Altrimenti, che cosa dobbiamo fare come primo passaggio? E questo è una cosa che gli imprenditori storgono sempre la bocca perché è una spesa in più, chiaramente. Come passaggio preliminare dobbiamo prendere delle persone e le dobbiamo mettere davanti al computer a scorrere le immagini e a dirci dove c'è una macchina e dove c'è un camion, dove c'è una macchina, dove c'è un camion. Quella li si chiama annotazione. Peggio quasi del data entry. Sì, sì, è proprio data entry. Proprio data entry. Sì, è come un data entry, devi mettere una persona apposita. Quindi le sfide più grandi per le aziende che tu riconosci oltre che entrare in questo mondo quindi capirne le potenzialità che anche tu fai opera di diciamo di alfabetizzazione che non è mai bello dicono nel business essere in una fase in cui le persone devono prima capire cosa si possono fare perché se fai il pioniere dopo dieci anni forse capiscono ma sarebbe stato un po' tardi anche capire. Sì, sì, è vero, è vero. Non è quel vantaggio. Quindi quale tipologie di aziende vedi che sono più consapevoli o più attente o hanno proprio l'esigenza? Sì, allora il mondo dell'informatica e delle software house agenzie web questi qui ci si cominciano a avvicinare velocissimamente a questo mondo perché loro già sono abituati a raccogliere dati a fare statistiche su questi dati a fare dashboard e quindi hanno già la mentalità diciamo data driven serve un po' una mentalità cosiddetta data driven serve la cultura dei dati per capire l'intelligenza artificiale. Ti dirò di più nel nostro mondo imprenditoriale italiano io penso che tantissime imprese sarebbero floride non se utilizzassero machine learning ma semplicemente se imparassero a fare statistica descrittiva sui dati che raccolgono. tanti vanno ancora avanti col foglio excel col csv con le cose scritte dentro word quelle cose lì vanno vanno messe un po' a terra vanno aggregate vanno non dico messe in un database ma quantomeno accentrate in un foglio excel in un csv in un tabulato di un qualche tipo e vanno analizzate cioè leggendo i dati si capiscono un sacco di cose e quelle cose che capisce aiutano a prendere decisioni poi chi sta ancora più avanti può permettersi di fare intelligenza artificiale comunque per rispondere alla tua domanda essenzialmente software house per quanto riguarda i piccoli e gli unici io vedo dei piccoli che si stanno avvicinando a questo mondo sono software house al limite chi fa ricerca di mercato perché pure loro smanettano parecchio quei dati invece poi si va subito su aziende grandi e le aziende grandi tutte quante chi più chi meno si stanno hanno già dei team o comunque dei professionisti che cominciano a lavorare su questi temi si stanno sì abbiamo lanciato il nostro appello e va benissimo e ti volevo volevo chiedere due cose su qualcosa che avevi accennato perché mi sta a cuore anche il tema della data visualization ho visto che nel tuo canale hai incominciato a fare cose interessanti volevo saperlo perché sento che chi si occupa di data visualization si lamenta che passare da un jupiter da un notebook dove fare delle query sui dati e poi effettivamente fornire della reportistica interessante non è un passaggio è un passaggio sfidante diciamo sì infatti c'è un po' un bruligare di strumenti che vogliono ovviare a questo a questo ostacolo allora se io avrei una risposta da bacchettone è una risposta invece un po' più comprensiva vado prima col bacchettone vai giù pesante falla dire a l'avic se vuoi quella bacchettone sì allora vediamo un po' se c'è è piccolo allora il pollo vazzaric è convinto che se vuoi fare dashboard di livello industriale il python non ti basta e devi imparare javascript e devi imparare su a mettere un server web e devi imparare a costruire un front end in react o in angular o in view o quello che sia devi usare la libreria per il javascript del front end non la libreria javascript python e devi iscriverti un front end che comunica con un servizio dati di back end scritto in python e questo ti dà i dati ma i dati li visualizzi a runtime nel browser questo è l'approccio professionale da bacchettone e chiaramente costa molto di più ti interrompo solo un attimo Piero perché penso che abbiamo perso l'80% degli utenti che ci ascolteranno perché troppe parole tecniche è chiaro che di turno che sarà javascript o quant'altro che girerà su piattaforme come web o mobile comunque servono per rappresentare quei dati e sta andando in quella direzione questo ci diceva Piero e invece il back end ci sarà da qualche parte nel back end un algoritmo in python o un linguaggio similare ma si è capito che python si è imposto un po' su tutti per fare la parte di machine learning vai pure si magari detto in ogni quali c'è un po' più business loro magari sono abitati a vedere cose tipo power bi tablo ok questi sono strumenti che vanno benissimo se impari a macinare i dati e prepararli in python di modo che li metti in un database e poi fai leggere a tablo questo database di dati già pronti per la visualizzazione vogliono la pappa fatta quello è sicuro esatto altrimenti si si rimane un po' nel notebook nel prototipo nei grafici fatti con le immagini quello lì è un po' il mondo diciamo dello smanettone di dati ci vuole anche qui cultura del dato secondo me anche il lato tecnico qui c'è un po' un errore sai qual è quello di pensare che fare dei grafici nel notebook sia sufficiente e pensare che è possibile magari prendere questo foglio html pieno di codici pieno di immagini e quello lì sia l'output del tuo lavoro questa è un'aspettativa assolutamente ingenua l'output un buon output di visualizzazione di dati è creare una dashboard che è direttamente fruibile dall'utente finale quello lì non vuole vedere i codici non vuole vedere come l'hai fatto vuole vedere solo vuole esplorare i dati appunto vedi qualche azienda longimirante che sta esponendo i dati se non in Italia all'estero e che tu prendi ad esempio ci sono due organizzazioni in particolare che sono parzialmente sovrapposte che io seguo da tempo e con cui collaboro sono Data Ninja e Ondata che sono rispettivamente una compagnia che si sta specializzando sulla visualizzazione dati e che non è fatta solo di tecnici ma anche di giornalisti di persone che faccia fare storytelling di designer quindi hanno un approccio necessariamente tecnico diciamo tecnico nel cuore ma non tecnico nell'esporre il loro prodotto all'esterno quindi secondo me loro hanno proprio capito come va fatto questo e Ondata è invece un'associazione non a profit per la promozione dei dati aperti gli open data e questi qui organizzano battaglie di livello nazionale per far aprire i dati all'amministrazione pubblica come io suggerisco sempre spaghetti open data perché grande mele list parecchi frequentano spaghetti open data si conoscono tutti credo si è tutto un giro di persone e loro veramente sono forti cioè a me piace quello che fanno piace proprio lo spirito con cui lo fanno e consiglio loro perché in visualizzazione dei dati secondo me loro hanno sono quelli che hanno colto di più il ponte tra il mondo tecnico e il mondo dell'utente finale cioè sono quelli che hanno fatto il salto più grande è vero è vero e senti ma tu dicevi delle community che anche sei co-founder di una community se si può dire mai quali sono cosa segui se si può suggerire qualcosa dove dove le pazze le community che frequento di più sono quelle diciamo del mondo dei meetup romani di tecnologia e in particolare mi sono affezionato a RomaJS il meetup su Wordpress il meetup sui grafi il meetup di Python mi piace tantissimo e io stesso organizzo un meetup quindi un incontro mensile gratuito sugli assistenti vocali Alexa Google Assistant e compagna cantante c'è in ogni città d'Italia oltre a una certa dimensione quindi parliamo di Roma Bologna Firenze Milano Napoli quindi le città principali c'è un giro di di community tecnologiche e c'è anche un po' di movimento sulle conferenze nazionali consiglio ai ragazzi che si stanno formando che vogliono cercare lavoro se voi frequentate queste community è molto facile trovare lavoro soprattutto se siete già capaci a fare qualcosa se siete già un minimo specializzati in una qualche tecnologia lì trovate persone preparate che si aggiornano continuamente vi fate vedere fate magari qualche presentazione raccontate una delle vostre esperienze qualcuno vi nota vi coinvolge vi si allarga il network a un certo punto l'offerta di lavoro arriva matematico e poi ovviamente seguire il canale di Piero perché è molto interessante dove tu saluti sempre con Ciao Intelligenze Naturali da dove è nato questo saluto? Ciao Intelligenze Naturali sì col Polo Watzlawick eccolo qua l'intelligenza artificiale immagino sì sì perché mi ricordo tra i corsi che seguiva all'università c'era c'era una professoressa che ricorderò sempre si chiama Olivetti Olivetti Belardinelli e questa professoressa spesso nel suo parlare menzionava spesso le intelligenze naturali e le intelligenze artificiali e questo suo modo di distinguere a volte di confonderle che a me disorientava poi a un certo punto ho capito perché se uno passa la vita a studiare la psicologia e l'intelligenza artificiale e comincia a vedere sia delle somiglianze tra come siamo fatti noi e come sono fatte le macchine sia delle grosse differenze e mi piace proprio il termine intelligenze naturali perché dà per scontato che non siano le uniche intelligenze esistenti Ah bello questa chiave di lettura non l'avevo vista non l'avevo afferrata e se ho fatto bene a chiedertelo i lodici data scientist e anche public speaker perché ci hai tenuto ad aggiungerlo nel tuo titolo? Perché grossa parte del mio diciamo sforzo professionale è divulgativo è di formazione e per spingere questa attività partecipo a un sacco di eventi a conferenze a lato da una decina di anni studio anche improvvisazione teatrale e quindi cerco per quanto possibile di rendere queste cose divertenti come ponendomi di fronte a gruppi di persone e raccontandogli questo mondo dell'intelligenza artificiale in un modo che sia fruibile e divertente che è un po' quello che stai facendo anche tu con questo podcast noi ci mettiamo un po' la faccia e mettendoci la faccia speriamo che qualcuno capisca qualcosa in più luci, contatti si crei un po' un movimento e questo è il motivo per cui sì senti invece parliamo di youtube il tuo canale sta riscuotendo abbastanza successo e voglio sapere tu cosa ne pensi e soprattutto cosa ne pensa anche il pollo perché vedo che si trova bene il pollo vatslavic che è sempre un ascolto allora che rapporto con youtube è successo che durante i primi anni da professionista io avevo l'esigenza come ogni freelance di farmi pubblicità e farmi conoscere e una delle prime strategie che ho trovato è appunto fare networking l'altra strategia è stata inizialmente quella di mettere magari annunci pubblicitari e ho realizzato che non funzionava granché allora mi sono chiesto ma io quando cerco aiuto su qualche tema di tecnologia voglio imparare qualcosa di nuovo che cosa faccio e mi sono risposto o vado su youtube e cerco qualcuno che ha fatto un tutorial oppure cerco un qualche post su blog e quindi siccome delle due mi dava molto più molto più gusto pur essendo molto più faticoso fare i video mi sono messo a fare i video e li ho messi su web questa qui è una strategia di content marketing metto contenuti su web e faccio in modo che siano utili a qualcuno e il ritorno che ho è essenzialmente di divisibilità visibilità che è fatta senza intermediari se non youtube appunto però come intermediario chiede veramente poco e poi sulla base di questo poi costruisco servizi prodotti per quanto riguarda twitch mi interessa molto vedere come come si evolve twitch ho delle idee ho delle idee non so diciamo è rischioso perché è presto però proprio perché è presto magari poi rende parecchio vediamo mi piacerebbe fare delle delle diluette twitch magari e fare del live coding di algoritmi scritti da zero questo in anteprima devo vedere se qualcuno mi segue in questa pazzia potrebbe essere anche interessante con il tema community farle direttamente su twitch io ad esempio ho visto delle community come serverless che è presente su twitch e anche perché potrebbe essere un'idea per mantenere viva una community attraverso la subscription su twitch e quindi mantenerla in vita e sostenerla per qualche euro o dollaro al mese ne varrebbe la pena posso fare una domanda io se è possibile fare una domanda al podcaster il podcast che a me incuriosisce molto il podcast perché vedo che è un ambiente a parte ricco crescere una vita assurda come ti stai trovando nel podcast business nel tuo sforzo come è? beh quando io ho iniziato il podcast era che avevo la necessità di fare un content marketing allo stesso tempo inbound marketing o comunque networking e c'è la possibilità di scegliere scrivere fare video o usare la propria voce questa mi risultava in apparenza la strada più più semplice e diretta che creava più coinvolgimento e rimane comunque il podcasting fino a qualche anno fa era ancora agli albori almeno in Italia e ancora ad oggi rimane comunque una soluzione di nicchia tant'è vero che molti poi si indirizzano verso YouTube oppure verso hanno scoperto anche Twitch come soluzione comunque rimane il fatto che è un ottimo mezzo per per fare in modo che le persone ti ascoltino dall'inizio alla fine comunque richiede come ogni progetto editoriale o comunque di contenuto di produzione di contenuto richiede un certo effort un certo impegno profuso nel tempo non lo so ad esempio nel tuo caso che è molto la componente visiva non solo ti viene bene è molto importante quanto premi podcast non lo so questo rivolgo a te la domanda allora per quanto riguarda i video sì intanto concordo pienamente sull'aspetto di quanto è poi complicato perché quando uno lo fluisce vedi direttamente quei 5-10 minuti di video di podcast quello che sia se li gode è contento se è particolarmente contento lo condivide lo commenta però dietro c'è un lavoro a parte di progettazione ma anche poi di strategia di quello che devi fare e poi farlo è un percorso a sé perché appunto io vedo che adesso hai un microfono comunque di un certo tipo te l'ho dovuto procurare non è che è di cartone di cartone ma non è che uno si improvvisa poi c'è c'è un'attrezzatura c'è una progettazione c'è una realizzazione poi c'è la parte di diffusione di questi contenuti che non è trascurabile cioè è tosta nei video allora in particolare per me è stato tosto per quanto riguarda i video trovare gli ambienti infatti ogni tanto ogni tanto faccio video in cucina in camera da volte mi stufo di cercare il posto giusto dico vabbè io faccio il video poi chi se ne frega se vedono che dietro c'è la cucina la telecamera pure ecco per esempio ho scoperto ad un certo punto che il suono è più importante del video anche quando vai a fare i video perché un video lo puoi fare tranquillamente con una telecamera di un cellulare e metterlo su youtube visto che la maggior parte della fruizione è da mobile non è che serve sta mega telecamera certo che se c'è una reflex è meglio invece il microfono fa veramente la differenza condivido quello che appena detto comunque non ci resta che andare in conclusione quindi chiediamo all'ospite dove lo possiamo trovare online allora mi trovate su youtube basta cercate Piero Savastano Piero Savastano Pollo oppure Pollo Machine Learning mi trovate su youtube ho un bel canale con ripeto diversi corsi gratuiti mi trovate tranquillamente sui social principali su linkedin aggiungetemi sono contento di accettare la vostra amicizia soprattutto youtube ecco youtube e linkedin sono i posti in cui che curo di più una cosa che mi faceva ridere in un commento ad un tuo video youtube in cui ti dicevano come finiva la serie Gomorra dato che tu di cognome fai Savastano e tu rispondevi a questo commento dicendo che questo cognome ti aveva rovinato la vita Pietro Savastano si ma nascosto dai motori di ricerca per anni però credo che a lungo termine potrei vincere io sono convinto che vincerei tu anche grazie al Pollo è una keyword dico da lunga che non scherza ricordo invece a chi vuole fare domande su questo podcast o seguirlo nel backstage il gruppo telegram omonimo e in più per chi è interessato alla newsletter su refactoring.it slash newsletter per saperne di più di cosa cosa faccio e infine una novità c'è il nuovo sito dedicato al podcast strategiait.info spero decisamente più comodo per trovare gli episodi del podcast e non mi resta invece che completare l'episodio salutando Piero e ringraziandolo per essere stato ospite qui su strategiait grazie grazie Riccardo a presto in bocca al lupo per il podcast spero di rincontrarti di nuovo e grazie a tutti grazie a tutti